Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calcio Toro, ben ritrovati, bentornati in questo nuovo video di Calcio Mercato, di approfondimenti a tema Torino e di chiarimenti anche per quanto riguarda la situazione sul fronte Torreira, Schick, Praet e altri sogni inarrivabili di Calcio Mercato Ma prima di incominciare un caloroso grazie, un enorme grazie, un grazie mille tra quasi, tra 16 iscritti, quindi se ancora non l'avete fatto non vorrei risultare fastidioso ma iscrivetevi al canale perché tra poco raggiungeremo i mille iscritti e ci tengo a ringraziare prima del raggiungimento del traguardo comunque anche Falso Nuove per la sua partecipazione alla live qua su YouTube sul mio canale per la prima volta di due giorni fa una live seguitissima, ottima frequenza di spettatori per tutte le due ore e 40 minuti in cui siamo stati in live con voi grande afflusso di gente, c'è stata tanta interazione quindi vi ringrazio, vi ringrazio, andate a seguire Falso Nuove se ancora non lo fate seguite me ovviamente e ci tengo anche a precisare che sono molto contento che la community Granata finalmente abbia una degna rappresentanza qua su YouTube dopo tanto tempo che mancava detto ciò, concentriamoci e buttiamoci immediatamente tuffo a bomba nell'argomento di oggi quindi il calciomercato a tema toro dunque, calciomercato, calciomercato allora ragazzi, le trattative sono sempre le stesse Linetti, Biglia per altri ancora si tratta solamente di interessamenti o comunque di sondaggi ancora non trattative entrate nel vivo e adesso facciamo un bel recap e vi dico la mia, soprattutto e vi dico perché l'operazione Torreira è infattibile per questo toro sotto un punto di vista logistico neanche troppo difficile da comprendere ragazzi non facciamoci illudere da Tutto Sport dalle prime pagine di Tutto Sport e andiamo oltre detto ciò, Linetti allora, si tratta d'oltranza attualmente sembra esserci l'inserimento della Fiorentina ma le parti, agente del giocatore società Samp, società Toro sembrano intenzionati a voler chiudere nei prossimi giorni una trattativa che potrebbe diventare la telenovela dell'estate stile Verdi a questo punto qualora non dovesse riuscire Linetti è molto probabile che si passi su una soluzione di diverso tipo come Barak che gioca nello stesso ruolo ma presenta caratteristiche chiaramente differenti rispetto a Linetti un giocatore molto più equilibrato e completo sotto certi punti di vista quindi sarebbe chiaramente neanche un'alternativa ma una seconda scelta secondo il mio modesto punto di vista attualmente si rimane a 8 più 2 di bonus l'intesa si potrebbe trovare sui 10 la situazione è parecchio incerta ci sono diversi sondaggi da parte di altri club ma la situazione è sempre la stessa il giocatore e la gente spingono per ritrovare Marco Giampaolo e questa è la situazione Linetti non c'è molto da dire perché non ci sono novità su questo fronte ma ce ne sono per quanto riguarda Lucas Biglia e qua vi do la prima notizia di giornata la prima bomba di giornata tra l'altro Lucas Biglia potrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino l'accordo è stato trovato c'è un accordo di massima ma perché c'è sempre un ma ragazzi il Toro starebbe valutando altri profili il calciatore ovviamente non ha il Toro non ha tutta questa concorrenza ci sono offerte dalla Turchia dal Trasmodor ci sono offerte dall'Argentina nulla di che il giocatore dà la priorità ai Granata ma sono i Granata ad essere indecisi se ingaggiare definitivamente l'argentino 35enne dunque ci sono diversi dubbi ovviamente sul giocatore che può essere la fragilità fisica non tanto l'età anagrafica e chiaramente il fatto che in mediana verrà fatto un solo colpo probabilmente lo switch di quel colpo sarà Rincon il ruolo del regista è molto delicato e c'è bisogno di un giocatore su cui poter contare per l'intero arco della stagione Biglia probabilmente non risponde presente a queste caratteristiche insomma perciò si vedrà si vedrà alla fine se la società deciderà di ingaggiarlo definitivamente oppure no ma notiziona la trattativa è chiusa nel senso che qualora il Torino decidesse di ingaggiare Biglia domani visite mediche e firma nessun problema ce l'abbiamo in pugno o almeno così mi risulta e risulta a diverse fonti perché poi ragazzi non linciatemi se queste cose non accadono io prendo da altre fonti che poi tra l'altro su Instagram seguitemi sempre su Instagram che io c'ho la calciotoro cito sempre tra cui insomma la principale che è Torino Granata Official gli amici di Torino Granata Official che saluto anche se adesso non si sono ancora esposti a riguardo ma da diverse fonti escluso Tutto Sport anche se pure Tutto Sport ne ha parlato l'accordo di Massimo è stato raggiunto anche da fonti autorevoli estere Argentina dunque questa è la situazione di Lucas Biglia ma adesso parliamo di un altro Lucas Lucas Torreira e di altri nomi che sono stati accostati al toro oltre a quelli dell'uruguayano uruguaggio dunque abbiamo Lucas Torreira Patrick Schick Dennis Praet tre solo tre Andersen per dire tutti nomi insomma molto importanti che fanno aizzare la piazza sicuramente però ragazzi bisogna essere realisti e logici in questo punto razionali bisogna andare oltre il sogno oltre alla voglia di vederli in Granata perché sono fuori classe per non rimanere delusi poi se al posto di Torreira viene Petriccione ne abbiamo parlato spesso nella live molti hanno dubitato di questa cosa anche su Instagram mi scrivete circa il possibile approdo di Torreira ma ragazzi Torreira non sarà un giocatore del toro non conta l'interessamento meno è un'operazione infattibile primo il giocatore prende più di 2 milioni di ingaggio il petto massimo di ingaggio al Torino è di 2 milioni avete mai visto un giocatore cui è stato offerto di più? no è una politica forte è un po' come l'Atalanta sotto questo punto di vista quindi se un giocatore percepisce più di 2 milioni il Torino non lo ingaggia mai il cartellino il cartellino sarebbe anche abbortabile 25 milioni noi abbiamo speso 25 milioni per Verdi ma qua ci sono due considerazioni da fare anzi tre a dirla tutta da aggiungere a quella di prima 1. la volontà del calciatore perché sul Lucas Torreira in uscita dall'Arsenal non c'è sicuramente solo il Toro ma diversi club sarebbero interessati a ingaggiare il fuoriclasse il regista fuoriclasse detto ciò chiaramente sicuramente farebbe piacere al calciatore ritrovare una sua vecchia conoscenza ovvero Marco Giampaolo allenatore con cui è esploso definitivamente ma francamente la vedo dura posso scegliere il Toro considerando tutto il catalogo europeo che ha a disposizione è un giocatore abbastanza richiesto e questo è un grosso problema per il Torino detto ciò questo è un problema l'ingaggio è un problema è un problema oltre a questi due punti i ragazzi di Lucas Torreira anche naturalmente il cartellino sono 25 milioni l'Arsenal chiede sui 25 milioni subito cash subito nessun prestito con obbligo diritto di riscatto 25 milioni subito che di base non possiamo permetterci senza cessioni e soprattutto altro punto molto molto importante le dichiarazioni di Cairo e Bagnati ragazzi io vi riporto alla realtà però sono sicuro che molti di voi lo considerano comunque come un sogno più che come un'operazione fattibile ci sta ci sta ma vi vorrei ricordare le dichiarazioni da parte di Cairo e Bagnati circa un mercato parsimonioso un mercato dove non si spenderà tanto un mercato fatto di opportunità e colpi low cost l'ho ripetuto diverse volte nei miei video ed è per questo che operazioni come Lucas Torreira Dennis Praet Patrick Schick e Andersen non sono possibili non sono possibili per il costo dei cartellini e gli altri motivi che vi ho detto precedentemente quindi per favore ragazzi vi chiedo di non di non ascoltare tutte le balle che propina tutto sport perché tutto sport ovviamente come quotidiano deve puntare a vendere maggiori coppie possibili e di conseguenza la spara sempre un po' grossa sempre un po' frettoloso lo faceva l'anno scorso con Verdi lo fa quest'anno con Biglia con Linetti eccetera parla anche di altri interessamenti insomma un sacco di fake news è un pentolone fatto di mezze verità e fake news quindi prendiamo quello che c'è di buono e soprattutto facciamo un po' applichiamo un filtro insomma leviamo lo schifo che viene fuori dal quotidiano e su Torreira queste sono le mie ultime parole perché non spenderò non aprirò mai più un argomento su Lucas Torreira e questo era il recap di calciomercato ragazzi altri nomi altri interessamenti non sono usciti sembra completamente smentita la pista che porta Anthony Barak ma sono sicuro che in caso di insomma fumata grigia o nera con la Samp per Linetti Barak potrebbe diventare una possibilità concreta detto ciò iscrivetevi al canale manca ancora poco ai mille ragazzi lo ripeto mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi insomma seguitemi anche su Instagram come ho detto precedentemente sempre Forzatore ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti